ciao sono simona vignali naturopata wellness coach come sarebbe eliminare per sempre il gonfiore addominale e sapere sempre cosa fare per mantenere la pancia sgonfia e ottenerlo in poche settimane senza dieta senza farmaci e senza faticosi addominali immagino sarebbe bello vero bene la buona notizia è che non devi più immaginarlo grazie al mio programma pancia piatta sempre moltissime persone mi scrivono perché arrivano alla sera con la pancia gonfia e tesa e dura e ogni cosa che mangiano provoca tensione e gonfiore conosco bene questa sensazione e il fastidio che comporta forse anche a te gli abiti che sono comodi al mattino diventano stretti e fastidiosi già a metà giornata e anche se cerchi di mangiare solo insalata e grissini ti senti lievitare ora dopo ora dopo ora alla sera tutto ti stringe non vedi l'ora di sbottonarti e ti metti quella tua tuta larga brutta ma comoda e quando devi uscire non sai mai cosa mettere perché non ti senti a tuo agio con niente se succede così anche a te sei nel posto giusto perché presto saprai come eliminare il gonfiore una volta per tutte con il mio programma ultratestato l'ho creato partendo dalla mia esperienza di 25 anni e più nei quali ho aiutato migliaia di persone ho formato centinaia di operatori ho fondato a milano uno dei centri più importanti dedicati alla cura naturale dell'intestino e ora ho raccolto il meglio delle mie strategie in un programma che puoi seguire comodamente a casa tua è unico nel suo genere perché non propone le solite quattro strategie di cui parlano tutti le tisane gli addominali la dieta rigida i rimedi più o meno chimici come il carbone vegetale nessuna di queste soluzioni può liberarti in modo definitivo dal gonfiore addominale e sai perché? perché seguendo una qualsiasi di queste strategie commetti l'errore fondamentale per cui il 99% delle persone non riesce a liberarsi dal gonfiore e l'errore è questo agire sul sintomo e non sulle cause ma per agire sulle cause devi conoscere un segreto fondamentale che è questo? la causa del gonfiore è la fermentazione intestinale e se vuoi eliminarla devi conoscere i fattori che provocano fermentazione e azzerarli sai quali sono? ti aiuto io secondo la scienza sono alcuni cibi specifici anche se sani e naturali lo stress e la fretta che generano cortisolo e adrenalina le combinazioni alimentari errate che diventano indigeste l'accumulo di scorie nell'intestino che si gonfia inevitabilmente e la mancanza di tono muscolare addominale che favorisce la dilatazione della pancia il segreto è seguire una strategia che lavora su tutte queste cause contemporaneamente senza stressarti la vita ora se ti stai chiedendo come mettere insieme i pezzi di una strategia antigonfiore efficace la buona notizia è che non devi farlo tu non devi studiare per anni e anni come ho fatto io perché tu hai già pronto tutto il meglio selezionato nel mio programma pancia piatta sempre puoi ottenere la pancia piatta e sgonfia in poche settimane e finalmente vestirti come ti piace senza sentirti stringere e provare imbarazzo e fastidio per la pancia gonfia fantastico vero? trovi il link con tutte le info e l'offerta speciale in descrizione e se agisci subito puoi approfittare dell'offerta speciale che ti ho riservato ricorda bene se non fai le giuste azioni in sinergia il gonfiore da solo non se ne andrà mai può solo aumentare ora tocca a te gonfiore o non gonfiore? la buona notizia è che ho trasformato la mia esperienza più che decennale in un sistema che agisce sulle cause degli squilibri intestinali e ottiene grossi risultati in un modo 100% naturale così non solo hai tutti gli strumenti per liberarti dai disturbi intestinali in modo definitivo ma sai anche come ottenere più leggerezza, vitalità, energia, forma fisica, bellezza e salute e ho preparato una rivelazione che cambierà per sempre la consapevolezza sul tuo intestino e può farti finalmente ottenere la pancia piatta, pulita e leggera che desideri e così puoi vivere finalmente senza dolori, disturbi e frustrazione e raggiungere una nuova e definitiva libertà da tutti quei disagi che sappiamo bene l'intestino può provocare Cos'altro dire? Ciao da Simona Vignali Cos'altro dire? 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 Grazie a tutti.